Ciao a tutti, sono Francesco Urbano, ho 22 anni e penso che il Movimento Espresso sia l'unica via riuscita per noi giovani e per i ragazzi della mia età e anche più piccoli. Questa penso che sia l'unica opportunità in Italia reale con la quale noi giovani possiamo realizzarci sotto tutti i monti di vista. Condivido la mia attività con i miei familiari, innanzitutto i miei amici e tutte le persone che ho intorno. E penso sia l'attività migliore del mondo proprio per questo, perché comunque lavori con le persone con cui ti piace più stare.